... Anche le bandiere del Wisp qui a Piazza della Repubblica per questa manifestazione contro i cambiamenti climatici per l'ambiente. Stefano Dati è venuto qui a Roma da Napoli, dirigente del Wisp Campagna Montagna. Stefano, perché il Wisp è qui oggi? Oggi è importante, io sto in duplice veste sia come Wisp Campagna che come l'istituto mio superiore Liti, Galileo Ferraris e anche a rappresentanza di altre scuole. Questo tema è fondamentale, è importantissimo per la nostra sopravvivenza e poi un elemento fondamentale è che questo movimento di giovani sveglia queste coscienze in modo da creare nuova politica, nuove attività e soprattutto uno stile di vita che si è adeguato a questo pianeta nostro. Grazie a tutti, grazie a tutti, grazie a tutti.